Il capogruppo del Partito Democratico del Consiglio Comunale di Chioggia, insieme con il 5 Stelle, hanno richiesto una commissione urgente, la Sesta Commissione, il cui obiettivo è comprendere le motivazioni che hanno portato alla modifica e alla rimodulazione della tassazione dell'imposta di soggiorno, con particolare attenzione alle categorie turistiche coinvolte e all'equilibrio delle entrate previste nel bilancio per il 2024. Il consigliere Lucio Tiozzo esprime dubbi sulla capacità della nuova tassazione di mantenere l'equilibrio delle entrate e degli impegni di spesa, soprattutto considerando l'importanza di tale materia per la gestione del comparto turistico della città. Ritiene che la decisione avrebbe dovuto coinvolgere una valutazione più approfondita in sede di commissione e che il Consiglio Comunale avrebbe dovuto essere debitamente informato di tale evoluzione, cosa che non è avvenuta a causa dei mesi di crisi all'interno della Giunta Comunale. Il consigliere sottolinea l'importanza di un dialogo costruttivo con la città e le categorie e la maggioranza, anziché imporre decisioni dall'alto senza un adeguato confronto. Ciao a tutti, allora Leo è ritornato, è una delle pizze più buone di Chioggia, sono le più buone rispetto agli altri amici pizzaioli che ci sono. Ogni tanto un po' di pizza, fa bene, si mangia dolcissima, si scioglie in bocca.